Grazie a tutti, grazie per la straordinaria opportunità di potervi raccontare che cosa facciamo, ma soprattutto delle meravigliose cose che vediamo ogni giorno. Oggi vi parlerò dell'approccio, del metodo che utilizziamo con migliaia di ragazzi ogni anno, ormai siamo una grande squadra che lo fa, è un approccio che vede l'elemento sperimentale, l'elemento pratico al centro dell'esperienza, perché abbiamo scoperto, e poi ne parleremo, che grazie all'elemento touch, nel senso proprio pratico, è possibile aumentare la capacità del pensiero e la capacità dell'immaginazione, ma proprio perché vogliamo mettere l'esperimento al centro, parto subito con un esperimento, quindi vi porto un po' nelle aule su cui ogni giorno andiamo e vi faccio vedere alcuni elementi. Vedo qualche faccia preoccupata, qualcuno curioso, di solito l'espressione che abbiamo è questa, solitamente, magari i ragazzini sono un po' meno preoccupati, ma c'è curiosità, c'è stupore, c'è meraviglia, ma appunto un timore. In realtà questo è azoto, sì, è un po' freddo, forse avete avuto un po' di freddo ai piedi, però è azoto, oltre al 70% dell'aria che stiamo respirando è formata da azoto. Ma allora perché abbiamo paura, perché abbiamo timore, perché non ne abbiamo esperienza? Vedete, quando noi siamo entrati o entriamo nelle scuole, spesso manca una struttura che sia in grado di far fare ai ragazzi esperienza e abbiamo docenti che gridano a gran voce la necessità di strumentazione e attività di conoscenze su questo settore, perché ci sono competenze che non possono essere demandate ad un manuale, sia esso cartaceo o digitale, ma devono essere toccate con mano. Un bambino impara a correre, però prima di imparare a correre impara a camminare e lo fa per tentativi non leggendo delle istruzioni e i concetti, i contenuti che utilizzano questo approccio sono molti. Ma andando nelle scuole abbiamo anche imparato un'altra cosa, che non stavamo parlando solo con i docenti, noi stavamo parlando con i genitori, con gli studenti, gli insegnanti, i dirigenti, i nonni, in una rete estremamente fitta e correlata, la quale non solo si comunica che cosa avviene nelle classi, ma comunica l'emozione quando si tratta di attività sperimentali. E voglio dimostrarvelo con un post che abbiamo raccolto qualche giorno fa, perché insomma quando TEDx Roncade ci ha contattato, insomma si è stato un punto d'orgoglio, e noi abbiamo iniziato a condividerlo nei nostri social, e così da condivisione a condivisione è finito diciamo in un gruppo genitori. Una mamma che aveva avuto la figlia, che aveva fatto un'esperienza pratica, dice ma come? Questi qua adesso vanno là, se li tengono loro probabilmente, e noi nella nostra scuola, ditemi cosa devo fare, lì dobbiamo avere questo tipo di attività qui, se devo vendere torte, vendo torte. Ma quando abbiamo letto questo post, ovviamente abbiamo detto wow, questo genitore mette la stessa passione che ci mettiamo nelle attività sperimentali, che mettono i ragazzi nelle attività sperimentali, quindi la rete è veramente fitta e riesce a trasmettere anche questa componente di emozione, di scoperta, di curiosità. Ma allora ci siamo posti una domanda, ma cos'è che realmente facciamo? Cos'è che concretamente riusciamo a fare con questa attività pratica e sperimentale? Beh, lo voglio fare, voglio raccontarvelo con Andrea. Andrea è un bambino, un ragazzino a otto anni, questa è una storia vera che ci è successa due anni fa, e Andrea è in terza elementare, siamo in una mostra pratica, sperimentale, siamo con lui e la sua classe davanti a questo esperimento, che è formato da quattro carrucole. Sotto ogni carrucola ci sono dieci chili, la prima è collegata con una corda, la seconda con due, la terza con tre e la quarta con quattro. Li facciamo provare, giocano, provano, poi ragioniamo, perché l'approccio non è solo l'esperimento, fine a se stesso, è dall'esperimento poi ragionare. E solitamente in terza elementare chiedo quanto fa? Dieci chili diviso due corde. E mi rispondono. Poi chiedo dieci diviso quattro, c'è insomma un po' di difficoltà, ma la fanno. Solo che sono stanco, è tutto il giorno che spiego e davanti a me ho il sacco, la carrucola con le tre corde. E dico dieci diviso tre, li vedo subito nel panico, dico no no scusate, non ho fatto una domanda, solo che vedo Andrea, e ho scoperto ovviamente dopo come si chiamava, vedo Andrea che fa così, e poi torna indietro, non dice niente, lo vedo, intuisco qualcosa e dico ma dimmi, dimmi, lo stesso timore, paura, un po' come l'azzotto di prima, fa no no no, dimmi, io sbaglio tantissimo, prova. Allora Andrea fa bufa, non so se si può, è un po' come se facesse tre con tanti tre che non finiscono più. E lì mi si è accapponata la pelle, ho guardato l'insegnante, l'insegnante dice no, non ho fatto niente, è una cosa bella signora. E lì Andrea ha scoperto davanti a noi, grazie a questo metodo pratico, ha scoperto i numeri periodici, ha scoperto l'infinito, ma non solo, domani Andrea dovrà risolvere un problema, dovrà trovare una soluzione, domani Andrea dovrà essere innovativo. Io credo che grazie a queste esperienze Andrea abbia la possibilità di avere un pensiero un po' più grande, di immaginare un po' di più. Vedete, l'immaginazione è finita, è limitata, ma può aumentare. L'immaginazione è un muscolo e come tutti i muscoli può essere allenato con il giusto approccio. Se dovessimo imparare a nuotare potremmo leggere tutti i manuali che vogliamo, ma dobbiamo entrare nell'acqua, non ci sono altre vie. Lo stesso succede con tantissimi elementi, ma non è solo una questione di concetto, è anche una questione biologica. Questo era Andrea. È anche una questione biologica, il connettoma, cioè l'insieme delle relazioni che ci sono nei neuroni, è influenzato dall'ambiente esterno e ciò che sentiamo, vediamo, ciò che pensiamo e ciò che siamo in grado di pensare è figlio anche delle esperienze che noi facciamo e che abbiamo fatto e il tipo di esperienze. Quindi c'è un'influenza anche biologica estremamente concreta. Ma ve lo voglio raccontare con Anna, un'altra ragazzina di dieci anni. Con Anna parliamo dei colori. Con Anna, che ha studiato come funzionano i colori a scuola, diciamo beh, Anna, abbiamo qui un liquido, abbiamo una cosa trasparente. In realtà ne abbiamo tre trasparenti, ma se io mescolo due cose trasparenti, cosa succede? Allora lei ci pensa, ragiona e fa bene. Abbiamo visto come funzionano i colori, trasparenti più trasparente, fa trasparente. Ho detto, Anna proviamo. Allora con Anna proviamo e vediamo cosa succede. Allora trasparente più trasparente può non fare trasparente, può fare un colore estremamente acceso. Allora Anna dice, ma è straordinario? E io dico, sì Anna, è straordinario, è fuori dall'ordinario, non ne avevi avuto esperienza. Ma allora dico, facciamo qualche ragionamento in più, proviamo e se adesso aggiungo un'altra cosa trasparente, beh, sarà un po' diluita, magari si schiarisce un po', proviamo Anna, sperimentiamo. Allora vediamo che cosa succede e quello che succede è che ritorna completamente trasparente. Allora Anna dice, ma allora l'insegnante mi ha detto una cosa sbagliata sui colori. No Anna, non ti ha detto una cosa sbagliata, è che ci sono più possibilità. Ora, facciamo crescere Anna, facciamola diventare grande, adulta, consumatrice, facciamola andare davanti, non so, ad una confezione in cui ci sono scritte cose come coloranti o sbiancanti e chiediamoci se queste esperienze possono influenzare la capacità di scelta, la libertà con cui Anna si può muovere. Ecco, vedete, noi crediamo che per aumentare la capacità di pensiero, l'immaginazione, per essere innovativi non possiamo usare sempre gli stessi colori, dobbiamo aumentare il numero di colori. Io credo che quello che facciamo con le attività pratiche, sperimentali sia questo, aumentare il numero di colori. Grazie.